La Rino e i NAS denunciano 9 persone con le accuse di truffa, falso e abuso d'ufficio. Medici e dirigenti sanitari avevano costituito un'associazione per fornire servizi ai propri pazienti. Secondo la procura, le prestazioni non sono state mai erogate. L'ASREM sarebbe stata truffata per 100.000 euro. Spese dei gruppi politici nel 2012 elargiti 2.300.000 euro. Nei rendiconti pubblicati sul sito internet del Consiglio regionale non mancano le sorprese sulle somme impiegate nel corso dell'ultimo anno. Intanto prosegue l'indagine delle fiamme gialle sulle spese dei gruppi dal 2009 al 2011, mentre con il decreto Monti a Palazzo Moffa arriverà la metà dei fondi stanziati nelle precedenti legislature. Molise TV puntata al femminile di Salute e Sapori, filo conduttore della trasmissione è stato il benessere psicofisico, affrontato secondo i pareri di alcune professioniste, impegnate in vari settori, dalla salute all'imprenditoria, dall'agricoltura al marketing. Lega Pro saranno almeno 700 i tifosi al seguito della Salernitana. Lo stadio di Selvapiana domenica pomeriggio sarà invaso dai supporter Granata, per una gara che rievoca sfide storiche tra il Campobasso e i Campani, atteso il pubblico delle grandi occasioni anche sul fronte rosso-blu. Buongiorno e bentrovati con l'informazione di Molise TV. Nove persone tra medici e dirigenti sanitari sono state denunciate dal nucleo antisofisticazione dei carabinieri con le accuse di truffa, falso e abuso d'ufficio. Quattro medici di base avevano costituito un'associazione per fornire ulteriori servizi ai propri pazienti, che secondo la Procura non sarebbe mai stata posta in essere, salvo un periodo iniziale di sei mesi in via sperimentale. L'ASREM truffata per almeno 100.000 euro. Sentiamo Giovanni Cannarsa. Una truffa ai danni dell'ASREM che ai medici in questione aveva fruttato complessivamente la considerevole somma di 100.000 euro. Otto mesi di indagini hanno impiegato i carabinieri del nucleo antisofisticazioni per smascherare un'associazione di quattro medici che secondo inquirenti e procura tutto avrebbe fatto for che aumentare i servizi in favore dei rispettivi mutuati. Ci riferiamo agli anni 2010-2011. In questa nuova inchiesta che ha interessato Larino e Dilvietri sono state colpite da avviso di garanzia a nove persone. Si tratta dei medici Giardino che anche il sindaco di Larino, Vincelli, Sabusco e Gabriele e dei dirigenti Percopo, Paglione e Testa e dei responsabili del nosocomio frentano all'epoca dei fatti di Lena e Quici, a svelare quanto accaduto il procuratore capo Ludovico Vaccaro ed il comandante del NAS Antonio Forciniti. In mattinata le persone in questione sono stati notificati gli avvisi di garanzia, sequestrate alcune auto e bloccati i pagamenti che nei loro confronti doveva ancora erogare l'ASREM di zona. I fatti imputati si riferiscono al 2010 quando Giardino, Vincelli e Sabusco e Gabriele formano la medicina di gruppo. In quel caso avrebbero dovuto garantire una copertura giornaliera degli orari per i loro assistiti, garantendo anche le prestazioni in favore dei mutuati degli associati, ma per la procura nessuno dei pazienti sapeva di questa possibilità. In tre su quattro per tenere le visite avevano anche la possibilità di utilizzare la residenza sanitaria assistita del Vietri senza avere l'apposita autorizzazione da parte dell'ASREM. Ognuno dei medici di base in questione percepiva al mese quasi 600 euro di indennità, ma per il NAS le prestazioni non sono mai state eseguite, anche perché all'epoca l'associazione nacque in via sperimentale. Che cosa viene contestato a questa associazione di medici? I reati in contestazione sono i reati di truffa, falso, nello specifico comunque ci sono state delle indennità percepite indebitamente, perciò si contesta quello che comunque questi medici hanno avuto modo di percepire nel corso periodo del 2010 fino alla data odierna. 8 mesi di indagini e quanti indagati ci sono? Complessivamente 9, a vario titolo, sia da personale medico che da personale amministrativo. Quale titolo eventualmente veniva utilizzata la struttura sanitaria per eseguire queste visite? Tutto illegittimo, una struttura pubblica utilizzata per fini assolutamente privati, perché sono medici di base convenzionati, perciò comunque ognuno aveva l'obbligo di utilizzare una struttura propria, non certamente una struttura pubblica, di cui non c'è assolutamente traccia di autorizzazione. Loro esercitavano comunque attività di libera professione, di medici di base, medici di famiglia, perciò ognuno continuava a fare quello per cui comunque erano stati convenzionati con l'ASREM, venendo meno quello che era il presupposto della medicina di gruppo, che è praticamente una forma di associazionismo che consente di avere maggiori servizi da parte degli utenti. Il concreto non veniva posto in essere. Delle indagini, almeno così è stato detto, è emerso che nessuno dei pazienti dei quattro medici sapeva di questa ulteriore possibilità. Uno degli obblighi previsti a carico dei medici è quello di notiziare i pazienti, di poter usufruire questo servizio allargato da parte dei medici facendo parte di questa forma di associazionismo. Nessuno di loro era stato notiziato e nessuno di loro ne usufruiva, degli utenti che erano coloro che comunque ne dovrebbero beneficiare. Arresti domiciliari ancora negati per Elvio Carugno, che dovrà rimanere presso il carcere di Campobasso. Per l'ennesima volta il funzionario della regione Molise, accusato di aver sottratto dalle casse dell'ente circa un milione di euro per scopi personali, non potrà usufruire nemmeno della possibilità di uscire dalla casa circondariale grazie all'utilizzo del braccialetto elettronico. Arrestato nell'aprile 2012, Carugno sta scontando in carcere la condanna a cinque anni e mezzo per il reato di peculato che gli è stata inflitta lo scorso 15 gennaio, alla fine del processo celebrato con rito abbreviato. L'inchiesta della Guardia di Finanza di Termoli sta portando alla luce importanti novità. Nell'indagine sui dirigenti e sui vertici dell'ASREM compaiono anche i nomi di alcuni politici locali. Gli indagati per truffa e abuso di ufficio ora salgono a 34. Vediamo. Il sistema sanitario del Molise si sta sgretolando sotto i duri colpi inferti dai vertici aziendali, ma non solo a quanto pare. I quattro filoni di indagine della Guardia di Finanza di Termoli sono confluiti in un'unica inchiesta che hanno portato alla luce premi produzione assegnati senza controllo, bonus ai privilegiati, spartizioni tra amici, buste paga gonfiate, indennità irregolari, presunti raggiri nel timbrare i beige aziendali. Le accuse sono dunque di truffa e abuso di ufficio e le persone iscritte nel registro degli indagati sono 34. Tra queste altisonanti nomi del mondo politico di Termoli e altri dirigenti dell'azienda sanitaria molisana. A essere indagati sono infatti il sindaco della città adriatica Antonio Di Brino, il suo vice Vincenzo Ferrazzano e l'attuale assessore al sociale Fernanda De Guglielmo. Ci sono anche i vertici amministrativi e sanitari degli ospedali molisani, attuali ed ex. Il manager Angelo Percopo e il direttore sanitario del Santimotio Filippo Vitale, l'ex dirigente del nosocomio termolese Giovanni Giorgetta e Mario Verrecchia, ex manager Asdremio Finito agli arresti grazie all'operazione Black Hall. Tra gli indagati anche alcuni responsabili amministrativi di uffici contabili e affari legali, da Gianfranca Marchesani a Loredana Paolozzi fino ad Antonietta Ludovico e Giuseppe Iurescia. Con loro una sfilza di indagati meno noti, ragionieri, operatori tecnici e collaboratori amministrativi, tra i quali la figlia di Ferrazzano, Cristina. Per ora naturalmente sono solo indagati, sarebbero responsabili a vario titolo e con diversi ruoli di aver intascato o assegnato bonus d'oro ai privilegiati, gonfiato stipendi o premi di produzione assegnati senza controllo agli amici di turno. In questi giorni la Guardia di Finanza ha richiesto di poter indagare ancora sei mesi su una serie di vicende riferiti agli ultimi anni. Ci vorrà dunque ancora del tempo per scoprire i raggiri che hanno interessato il mondo sanitario del Molise, di cui hanno approfittato per anni troppe persone. I dieci sindaci dei paesi del Medio Biferno interessati dalla realizzazione della Fondovalle Rivolo hanno deciso di andare a protestare a Roma presso il Ministero dello Sviluppo e dell'Economia per i ritardi di accreditamento dei fondi che dovranno servire a ultimare l'opera. Per la strada lunga 7 chilometri che collega Campobasso alla Fondovalle del Rivolo servono ancora 2 milioni di euro da destinare all'abitumazione di qualche chilometro e alla segnaletica orizzontale. A un giorno dalla data internazionale dedicata alle donne e dall'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi sul Lavoro è stato presentato il progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'iniziativa Omero, la forza della narrazione, è volta a promuovere la sicurezza sul lavoro, soprattutto per le donne. Durante l'evento sono stati inoltre presentati dati nazionali e regionali sugli infortuni. Vediamo i dettagli nel servizio. Omero, la forza della narrazione, questo è il titolo del progetto realizzato dall'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, in collaborazione con la direzione regionale INAIL per il Molise e finanziato dal Ministero del Lavoro e le Politiche Sociali. Obiettivo dell'iniziativa è quello di promuovere la sicurezza sul lavoro per le donne, rafforzare la figura dei rappresentanti lavoratori sicurezza affinché le lavoratrici possano esercitare i diritti fondamentali, parte integrante di una realtà lavorativa quotidiana. Quest'anno la celebrazione intanto l'abbiamo anticipata rispetto all'8 marzo che è domani, di un giorno, ma per impegni organizzativi. Voglio sottolineare il fatto che è un'iniziativa che parte quest'anno, almeno quest'anno, da parte dell'ANIMIL, l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, che in sinergia con il nostro patrocinio ha organizzato questa giornata per rendere i dati, le informazioni sugli infortuni al femminile, sulle malattie professionali al femminile e tutte le iniziative che abbiamo intrapreso anche con la loro collaborazione in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro in generale, naturalmente. Durante la presentazione del progetto sono stati inoltre illustrati anche dati relativi agli infortuni sul lavoro al femminile denunciati all'INEIL. A livello nazionale gli infortuni complessivi sono diminuiti del 20%, così come il Molise dove sugli occupati solo il 40% sono donne, interessate in maniera inferiore rispetto al sesso maschile. È l'agricoltura il settore in cui si registra il maggior numero di incidenti in regione. Nel 2011 i Molise 8 sono stati gli infortuni mortali in cui a perdere la vita sono state donne, di questi 6 sono avvenuti in itinere e solo 2 sul posto di lavoro, a dimostrazione di un dato già emerso tempo fa e che dimostra come spesso, soprattutto a causa della problematica viabilità in regione, la morte la si può incontrare soprattutto durante il tragitto casa-lavoro. Io ho avuto modo di sottolinearlo anche alla commissione Tofani per le cosiddette morti bianche e infortuni sul lavoro. Il Molise presenta delle caratteristiche sotto questo profilo veramente negative e di difficile anche soluzione. solo la sinergia tra tutti gli enti, le istituzioni pubbliche e gli interventi che si possano effettuare potrebbero far diminuire questo brutto fenomeno dell'incidente comunque sulla strada. In relazione alla diminuzione degli infortuni non è però nemmeno da escludere come su tali cifre incidere sia stato il periodo di recessione economica in cui a scendere è stato anche la percentuale degli stessi occupati. Per quanto riguarda le donne, come infortuni sta diminuendo, però dobbiamo anche tenere presente che i posti di lavoro vengono a diminuire e ultimamente si sta verificando molti infortuni mortali delle donne. Adesso basta. Questo è lo slogan della campagna contro la violenza sulle donne. Il progetto ha come obiettivo non solo quello di sensibilizzare l'opinione pubblica su questa problematica, oggi più che mai attuale come dimostrato dai recenti episodi di cronaca, ma vuole anche fornire un aiuto concreto alle vittime di questa violenza. Il progetto nazionale presentato questa mattina in conferenza stampa è patrocinato dalla provincia e dalla regione Molise e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'iniziativa promossa dall'Associazione Cultura e Solidarietà ha visto la partecipazione del presidente dell'Associazione Aldo Di Giacomo e del consulente legale Lorena Greco e Annalisa Ciarlante in veste di madrina del progetto. È stata presentata presso l'hotel Rinascimento a Campobasso la Casa del Pellegrino di Yeltsi. L'iniziativa rientra nel più ampio progetto nato in collaborazione con l'associazione iubilantes di Como che promuove la vita micaelica, un itinerario culturale del Consiglio d'Europa e una riscoperta dei tracciati antichi che fanno parte della via francigena, come ha dichiarato il consigliere regionale responsabile del progetto Michele Fratino. Il progetto, oltre alla valorizzazione del territorio e all'adesione formale alla rete dei cammini, prevede l'apertura di un ostello lungo, luogo di sosta e di ristoro che potrà essere occupato gratuitamente dai pellegrini di passaggio a Yeltsi. Nel 2012 i gruppi consigliari della regione molise non si sono fatti mancare proprio nulla. Questo infatti è quanto emerge dai rendiconti degli stessi gruppi di Palazzo Moffa. 2 miliardi 300 mila euro rendicontati, la metà dei quali destinati alle spese per i dipendenti, ma non mancano sorprese per l'altra metà della cospicua cifra. Vediamo. 16 documenti formato PDF consultabili e scaricabili da tutti nella sezione Trasparenza, Valutazione e Merito del sito del Consiglio regionale sono i rendiconti dei gruppi consigliari di Palazzo Moffa relativi all'anno 2012. Tutti, tranne il gruppo di alternativa, hanno rendicondato le spese pari a 2 milioni e 300 mila euro consumati nel corso dell'anno 2012. La parte maggiore delle spese sono relative agli stipendi alle ritenute e ai contributi del personale impiegato negli stessi gruppi. Sono pochi coloro che hanno restituito il rendiconto con un segno positivo tra entrate e uscite. Si tratta di Franco Giorgio Marinelli con il gruppo misto che ha restituito quasi 3.500 euro. Per Salvatore Ciocca c'è stato un avanzo di 5.000 euro e avanzi di gestione anche per Antonio Daimmo, ex capogruppo di Grande Sud. Pareggio per l'ADC così come per l'Italia dei Valori, il Partito Democratico ha chiuso in negativo. I più precisi sono stati Vincenzo Niro, capogruppo d'Euro, e Michele Scasserra per Molise Civile che hanno allegato tutto quanto c'era da allegare. Contratti, buste paga, fatture ricevute. 233 mila euro le spese per l'Alleanza di Centro, 74 mila per la Federazione della Sinistra, 145 mila per Grande Sud, 43 mila euro le spese rendicontate da gruppo misto a firma di Marinelli, 231 mila le spese dell'Italia dei Valori, Molise Civile si è fermato a 61 mila euro. Molise di tutti capeggiato dal neogovernatore Paolo di Laura Frattura ha speso 80 mila euro, quasi come costruire democrazia. Il Partito Democratico ha sbancato con i suoi 235 mila euro di spese, 87 mila per il Partito Socialista, 77 mila per l'Udeur, mille euro in meno per il gruppo per il Molise Iorio Presidente, ben 344 mila euro per il Popolo della Libertà, e su rendiconto si evince accanto alla voce Fondocassa Finale per il 2013, con un più 50 mila euro, un punto interrogativo nel documento sottoscritto da Nicola Cavaliere, 210 mila euro anche per l'Unione di Centro, 125 mila euro le spese per il Progetto Molise, 79 mila quelle di Sinistra Ecologia e Libertà. Da segnalare che coloro che hanno viaggiato di più sono stati i consiglieri dell'Udc, con 30 mila euro di rimborso per le emissioni del gruppo. Il Progetto Molise ha speso 1.500 euro per i carburanti e 26 mila euro per l'allestimento e le spese relative a una sede politica. Non mancano le buone abitudini come i 315 euro di caffè spesi dal gruppo per il Molise e 105 dell'Unione di Centro. Chierchia Gruppo Socialisti invece ha rendicontato 103 euro per alimentare e snack. Insomma, se poco più della metà dei 2.300.000 euro spesi dai gruppi consigliari sono stati a pannaggio dei dipendenti impiegati negli stessi gruppi, un'altra milionata di euro sono stati spesi per buoni pasto, stampa e spedizione dei periodici, consulenze, spese postali e telefoniche, cancellerie stampati, per attività proporzionali di rappresentanza, convegni e comunicazione, per l'acquisto e il noleggio di telefoni cellulari, per le dotazioni informatiche del gruppo e per le spese logistiche. Insomma, i gruppi consigliari di Palazzo Moffa nel 2012 non si sono fatti mancare veramente nulla. E io vado! E io vado! E sempre per quel che riguarda i gruppi politici, proseguono le indagini della Guardia di Finanza relativi alle spese dal 2009 al 2011, mentre dalla legislatura che sta iniziando saranno ridotti del 50% i fondi destinati ai gruppi di Palazzo Moffa e non esisteranno più i cosiddetti monocellulari, quelli composti da un solo consigliere regionale. Sentiamo ancora Giuseppe Formato. La pubblicazione sul sito internet del Consiglio regionale dei rendiconti del 2012 dei gruppi politici ha suscitato estrema curiosità e sono stati migliaia a informarsi sulle spese di coloro che operano a stretto contatto con i consiglieri regionali e degli stessi inquilini di Palazzo Moffa. Se metà dei 2.300.000 euro stanziati per il 2012 per i gruppi sono stati a pannaggio dei dipendenti, l'altra metà dei fondi è stata riservata su voci quanto meno discutibili come i caffè, gli snack, i buoni pasto, i telefoni cellulari con le relative spese. Sulle spese dei gruppi consigliari intanto proseguono le indagini della Guardia di Finanza relativamente alle spese della nona e decima legislatura dal 2009 al 2011, periodi durante i quali ancora non era in vigore la legge sulla trasparenza dei conti. È stato successivamente il decreto 174 del 2012 a introdurre l'obbligo della pubblicazione. Lo scorso mese di ottobre le fiamme gialle acquisirono i carteggi dei gruppi consigliari che sono ancora sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti e non sono esclusi colpi di scena nelle prossime settimane. Sempre in tema di gruppi politici, dall'inizio della prossima legislatura, appena dopo la proclamazione degli eletti, entrerà in vigore anche il decreto Monti sui tagli della politica che già ha imposto la riduzione per la regione molise dei consiglieri da 30 a 20 e degli assessori a 4. Secondo quanto approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso mese di ottobre, infatti i finanziamenti e l'egevolazione in favore dei gruppi consigliari, dei partiti e dei movimenti politici sono stati decurtati del 50% e adeguati ai livelli della regione più virtuosa. Sono stati aboliti anche i finanziamenti ai gruppi composti da un solo consigliere, i cosiddetti monocellulari. Se nel periodo della campagna elettorale risulteranno dei picchi di telefonate, allora vorrà dire che i cellulari di servizio saranno stati utilizzati per scopi personali ed elettorali. Queste le parole di Nicola Camaiore, consigliere di maggioranza al Comune di Termoli e capogruppo Udeur. In caso venissero riscontrate anomalie, i camaioni si dice pronto a ricorrere alla Corte dei Conti. Non è questione di destra o sinistra, ha proseguito l'esponente dell'Udeur, ma si tratta di sapere se i fondi pubblici sono stati utilizzati per scopi personali. La gente deve saperlo. Seduta straordinaria del Consiglio Provinciale di Campobasso, convocato in via d'urgenza per l'approvazione del regolamento sui controlli interni e delle modifiche al regolamento di contabilità. Sentiamo Samantha Ciarla. Approvazione del regolamento sui controlli interni e modifiche al regolamento di contabilità. Questi due punti all'ordine del giorno affrontati dai consiglieri provinciali. In adeguamento al Decreto Legge 174 del 2012, il regolamento consentirà attraverso i doni e i strumenti un controllo di tutti i servizi dell'ente, garantendo in questo modo una maggiore efficienza dell'ente stesso. Devono essere approvati questi atti entro il 10 di marzo. Questi atti devono essere trasmessi alla Prefettura e alla sezione regionale della Corte dei Conti per i successivi adempimenti. Sono nuove norme che intervengono per far sì che l'attività amministrativa sia sempre più in qualche maniera limpida e rintracciabile. Per cui ben volentieri credo che oggi ci apprestiamo a votare questi nuovi regolamenti affinché davvero l'attività amministrativa sia senza macchie e sia il più trasparente possibile. Il Presidente del Consiglio Gianluca Cefaratti si è espresso anche sui nuovi equilibri presenti all'interno di Palazzo Magno in seguito alle recenti consultazioni regionali. Adesso c'è qualche cambiamento in atto. Certamente lo scenario è differente rispetto allo scenario del maggio del 2011 quando siamo stati eletti. Il Presidente saprà e sarà in grado di fare le valutazioni opportune quando ci saranno anche ulteriori novità quali ad esempio la fuoriuscita dall'ente dell'assessore Micone che andrà a ricoprire degnamente il suo ruolo di consigliere regionale. Credo che il Presidente abbia la volontà di riunire la maggioranza e discutere insieme alla maggioranza sul da farsi. Oltre all'adeguamento alle normative vigenti è fondamentale procedere ai tagli di tutto ciò che rende macchinoso l'apparato governativo secondo quanto dichiarato da Micaela Fanelli. C'è una maggioranza tellurica, poniamo anche dei temi politici è chiaro che l'asfissia delle province che ribadiamo andrebbero a questo punto eliminate in un contesto di riforma nazionale vediamo le difficoltà del governo a formarsi e che deve mettere al primo punto il taglio delle cose inutili della casta dei vitalizi, degli enti inutili rimane il tema politico vero. Qui alla provincia di Campobasso c'è anche un tema politico interno dove evidentemente ci sono delle rivoluzioni perché c'è stato una serie di passaggi dal centro-destra al centro-sinistra e quindi oggi noi portiamo avanti la macchina amministrativa perché bisogna sempre migliorare anche nell'esercizio delle proprie funzioni gli atti regolamentari. Dopo che l'ufficio elettorale centrale presso la Cassazione ha confermato l'assegnazione al Molise da parte del Ministero dell'Interno di due seggi in Parlamento e non tre non si fermano le proteste della parlamentare del Popolo della Libertà Sabrina De Camillis che quasi sicuramente presenterà ricorso alla giunta delle elezioni di Montecitorio la stessa che oggi è stata a Roma per una conferenza stampa insieme agli altri esclusi Manuela Di Centa del PDL e Massimo Donati ex Italia dei Valori oggi esponente di Centro Democratico che sulla questione ha già presentato istanza alla Corte di Cassazione ed esposto il problema allo stesso Ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri secondo Donati ci sarebbe stato infatti un errore nell'assegnazione di cinque seggi alla Camera generato quasi sicuramente a causa del complesso meccanismo di attribuzione dei seggi in base ai cosiddetti resti verso le amministrative di maggio il centro-destra è ancora al lavoro per scegliere il candidato sindaco al comune di Isernia intanto si saprà in serata se l'ex primo cittadino Ugo De Vivo scenderà di nuovo in campo nel corso di un incontro organizzato dai suoi sostenitori sentiamo Arianna Gentile potrebbe essere Raimondo Fabrizio il candidato sindaco al comune di Isernia per il centro-destra l'ex consigliere comunale secondo le ultime indiscrezioni potrebbe trovare il favore di una buona parte del PDL il partito di Silvio Berlusconi infatti sarebbe intenzionato a puntare su un candidato giovane che possa far presa su un elettorato che chiede il rinnovamento della classe politica al momento però sono solo voci il centro-destra infatti può contare anche su altri potenziali candidati Gianni Fantozzi, Piero Sassi e Mimmo Izzi in pole position ci sarebbe anche Raffaele Mauro l'ex presidente della provincia di Isernia dopo il buon risultato ottenuto alle elezioni della scorsa primavera è visto come il candidato in grado di fare sintesi tra le varie anime del centro-destra e dunque di poter unire la coalizione aspetto importante questo se il centro-destra vuole vincerle le amministrative di maggio la situazione non cambia se ci si sposta sull'altro fronte anche il centro-sinistra infatti è alla ricerca di un candidato sindaco sarà Ugo De Vivo? l'ex sindaco di Isernia affugherà ogni dubbio questa sera nel corso di un incontro organizzato dai suoi sostenitori e se il primo cittadino declinerà invece la proposta avanzata dal Partito Democratico certe saranno le primarie con Anastri di partenza, Carlo Veneziale del PD Cosmo Tedeschi dell'Italia dei Valori Franco Capone, Domenico Di Baggio dell'Udeur e Vincenzo Bizzarro di Rialzati Molise Rinviato al prossimo 14 marzo il processo che ha preso il via dall'operazione Impero l'inchiesta coordinata dalla direzione antimafia di Campobasso che nel 2011 portò alla luce un giro dispaccio di sostanze stupefacenti gestito da alcune famiglie di etnia Rom il rinvio dell'udienza sarebbe attribuibile anche alla mancanza di personale in quanto impegnato con le verifiche inerenti la scorsa tornata elettorale la mancanza di personale non sarebbe nemmeno l'unico problema del palazzo di giustizia del capologo Pentro dove sembrerebbe manchi addirittura la carta per effettuare le fotocopie da mesi senza sussidio e in attesa che gli ammortizzatori sociali possano arrivare non prima di luglio prossimo molti lavoratori provenienti da diverse aziende del Molise aderenti al sindacato FIOM e hanno organizzato un presidio dinanzi alla giunta regionale per spostarsi poi presso il palazzo di governo di Campobasso dove sono stati ricevuti dal prefetto Francesco Paolo Di Menna Vediamo A un tratto si infiamma tra gli stessi lavoratori la protesta di questa mattina prima dinanzi alla giunta regionale e in seguito dinanzi al palazzo del governo di Campobasso dove rappresentanti sindacali della FIOM sono stati ricevuti dal prefetto Francesco Paolo Di Menna un nervosismo generato da una situazione difficile nella quale versano numerosi lavoratori della regione che vedono ora sempre più incerto il proprio futuro al quale al momento nessuno sembra aver offerto una risposta concreta La situazione è che da parte dell'assessorata al lavoro c'è stato detto che convocheranno a breve tutte le aziende che hanno fatto richieste di cassetti di azioni interroga ma il problema comunque ci sarà anche dopo per quanto riguarda l'erogazione non sono stati ancora stanziati finanziamenti regionali per questo oggi siamo stati in prefettura per chiedere al prefetto di comunicare questa esigenza al ministero di queste problematiche a livello territoriale perché i lavoratori in questione rischierebbero di avere l'ammortizzazione sociale se tutto va bene per luglio di quest'anno Quali sono state le risposte del prefetto? Il prefetto ci ha garantito che farà tutto ciò che abbiamo richiesto a livello ministeriale e regionale quindi dobbiamo solo attendere qualche giorno per avere risposta A livello regionale di tutti i settori sono un centinaio di aziende che hanno fatto richieste di cassetti di azioni interroga qui presenti che hanno fatto da apripista alla questione sono quattro Eco Power, Smith e Manes proprio per sollevare questo problema i numeri per queste quattro aziende sono un centinaio Come sindacato adesso che cosa farete? Attendiamo ancora qualche giorno Poi vediamo insieme ai lavoratori di fare un'altra iniziativa perché sono mesi che sono senza nessun ammortizzatore sociale E passiamo alla cronaca Il bar al centro di Petra Abbondante è stato preso di mira ad alcuni ladri durante la notte Decisamente povero il bottino dei malviventi perché il gestore del locale per precauzione ogni sera dopo la chiusura portava a casa tabacchi, biglietti della lotteria a gratta e vinci e ovviamente anche il denaro compreso quello all'interno delle slot machine Insomma bottino magro anzi magrissimo per i rapinatori che sono fuggiti a quanto sembra con un furgoncino Per far luce sull'accaduto stanno indagando i carabinieri del posto Una puntata tutta al femminile quella di Salute e Sapori andata in onda ieri sera Il benessere psicofisico è stato il filo conduttore della trasmissione che ha visto la partecipazione di autorevoli ospiti impegnate in differenti campi dalla salute al marketing dall'imprenditoria all'agricoltura Vediamo Il benessere in tutte le sue declinazioni è stato l'argomento portante della puntata di Salute e Sapori andata in onda ieri sera Il benessere della persona, delle comunità, del territorio e la valorizzazione delle competenze di quanti operano nel Molise sono solo alcuni degli spunti di riflessione emersi dall'incontro Una puntata tutta al femminile in cui le ospiti si sono confrontate sul buon vivere partendo dall'alimentazione Silvia Mancini, presidente dell'Accademia del Buon Dormire ha sottolineato l'importanza di favorire il consumo di prodotti molisani Credo che questo possa essere di grande aiuto in questo momento di crisi a tante realtà molisane che magari non hanno la giusta visibilità e noi stiamo cercando di fare proprio questo di invogliare molisani a consumare dei prodotti che facciano bene alla salute e prodotti che siano di aziende molisane quando possiamo sceglierle chiaramente Tra le ospiti presente anche Irene Pontarelli tecnico della riabilitazione psichiatrica del centro di salute mentale di Campobasso È importante infatti definire proprio il benessere nelle varie aree che riguardano proprio l'individuo quindi innanzitutto quella psicologica quella sociale e infine anche se non meno importante proprio quella fisica Invece dobbiamo pensare a quella che è l'area psicologica come quella che è la parte interiore di ogni persona quindi quelle che sono appunto la capacità l'autostima ad esempio l'auto efficacia ma anche quelle che sono la capacità di fronteggiare i problemi che ogni giorno appunto siamo chiamati ad affrontare Francesca Dinucci responsabile marketing e comunicazione del pastificio La Molisana ha illustrato il progetto Benessere in stretta connessione con il centro di salute mentale Abbiamo realizzato dei braccialetti fatti di pasta di piccoli pezzi di pasta e di fettuccia di cotone Quando siamo tornati al Cibus ci siamo resi conto che questi braccialetti in qualche modo avevano catturato l'attenzione e ci richiedevano degli ordinativi e da lì abbiamo pensato di farli realizzare ad una cooperativa ci siamo imbattuti nel CSM e nei lavori della cooperativa di laboratorio aperto e abbiamo scoperto la qualità di questi prodotti la prima cosa che ci ha colpito era la capacità di questi ragazzi di operare di fare dei lavori veramente di grandissima qualità Lilia Zappone psicologa e vicepresidente dell'associazione Promosam ha presentato le attività svolte nel capoluogo molisano al fine di perseguire un benessere sociale si occupa soprattutto della lotta contro lo stigma perché il benessere mentale ecco è un bene che riguarda tutti e quindi non soltanto un target di persone che ha avuto delle difficoltà o che spesso noi nel nostro immaginario comunque tendiamo a classificarli come pazienti psichiatrici e per la parte relativa ai sapori ospite della trasmissione Giovanna Cuomo titolare dell'azienda Api in Fiore presidente della FAI Molise e la federazione apicoltori italiani la rappresentanza FAI sia a livello nazionale che a livello regionale ha il ruolo di intervenire nel campo apistico proteggendo e tutelando quello che è l'attività dell'apicoltore preservando questo patrimonio da eventuali emergenze sanitarie e tenendolo poi quindi a disposizione anche degli apicoltori del posto e soprattutto portando i problemi che l'apicoltore ha riportarli poi direttamente in campo a livello nazionale stando noi strettamente collegati con la FAI nazionale Salute e sapori tornerà in onda mercoledì prossimo alle 21 su Molise TV questa era la nostra ultima notizia adesso vi lascio alle previsioni del tempo e ai colleghi dello sport grazie per l'attenzione e buona giornata Il meteo è offerto da Scegli Italian Gas e troverai il massimo risparmio Chiama il numero verbi 800-76-89-89 e capirai come risparmiare Italian Gas Energia per passione Previsioni del tempo per venerdì 8 marzo Un flusso di correnti umide e instabili dai quadranti sud-occidentali rinnova una fase spiccatamente variabile sulle regioni di sud-est con nuvolosità irregolare associata ad acquazioni sparsi venti tesi dai quadranti meridionali in graduale attenuazione con mari da molto mossi a mossi Vediamo ora in dettaglio le temperature Campobasso minima 7 massima 12 gradi Isernia minima 8 massima 15 gradi Termoli minima 12 massima 14 gradi Il meteo è stato offerto da Scegli Italian Gas e troverai il massimo risparmio Chiama il numero verbi 800-76-89-89 e capirai come risparmiare Italian Gas Energia per passione Il meteo è stato offerto da